D'Avevo, grazie di cuore a tutti quanti, bella gente, grazie D'Avevo, mi fate un applauso a te ragazzi che sono volati, perché a volte, no, ho capito che non è il numero, no, no, ma tu sei lo numero uno che non ha fatto quello che è tu, eh ragazzi, va bene, grazie di cuore D'Avevo, auguri a tutti quanti, grazie a tutti, ci vediamo nei tuoi livelli di cinque, eh va bene, speriamo, Comunque, dai, mi raccomando, tanta salute a tutti, Adriano, prego